Il rancho è stato positivo per l'aspetto culturale e turistico. E' stato fatto in una riunione con il Ministro di Cultura e Turismo che ha presentato in manatario un progetto chiamato POSSIGEL PROJECT. La intenzione è di distruggere un'area del rancho e di cui è merecido un valore culturalmente. Mirando la ubicazione del rancho turisticamente, è stato importante per apportare molti benefici. Tu sei stato che è da buon riconoscere. In Italia è sicuro che il cambio è in camionato per il rancho. Ora che abbiamo garantito, abbiamo come si arriva a ristorazione del forno e poi si arriva a ristorazione del rancho, come il blocco qui, come il riconoscere il riconoscere, il riconoscere il riconoscere e il riconoscere. Quindi è stato un blocco che ci prenderemo per la direzione e per un inizio, in un cambio nel barrio di rancho. Stegten Rancho ha iniziato nel 2010 e con un'ambizione più grande per conservare la cultura e la storia del rancho. Questo progetto è positivo per la visione di un miglior desarrollo per l'area. E' anche un aspetto sociale. Il desidio di un progetto è un progetto sociale. E' anche un progetto da banhe, con il territorio, per la gente sta qui quando pensanti. E' anche un cambio che è questa e poco a poco non sta arrivando l'interazione. E' il problema sociale. E' anche un'accessione dell'economia. E' anche un'accessione dell'economia. E' anche un'accessione di un turismo. e se non possiamo fare un turismo nel barrio difficilmente non possiamo fare un progetto che non si vogliono fare un progetto e ci sono conti per il fondo per farlo per farlo e ci sono contenti che non abbiamo un settore privato e ci sono interessati e ci sono pronti per il rancho strato per fare un limpiezzo pronto in plan serio per il forno è un icono di rancho è un icono di donare il forno anche con il monumento e conjuntamente il nostro paese sta lavorando con il nostro paese restaurare il forno e di tal forma che durante la ristorazione e anche in un grande barrio per guardare educa di che importanza il forno ha in passato e lo ha in avanti per il futuro anche con il nostro paese restaurare e mantenere come un forno e creare un parte educativa con il nostro paese e anche con il nostro paese e anche con la prossima edizione di notizia e non ci sono contato un po' di Esaki e anche con il nostro paese e anche con il nostro paese